Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con il pin set di Pichedilli. Dovrebbe essere la sesta palestra, se non ricordo male, quindi comunque siamo tra le ultime. Lo spacchettamento di tutti i pin set l'avevo cominciato, se non erro, verso fine anno scorso e poi lentamente, molto lentamente lo sto portando a termine. Quindi che lì ragazzi, non perdiamo ulteriori indugi, andiamo a vedere la scatola contenente la medaglia, ovviamente, tre bustine, due con Drenno e una con Obstagu e la carta promo di Alcremi. Sul retro abbiamo visita la palestra di Pichedilli e incontra Poppi, per chi ha giocato sulle, e se sulle luna, Scudo e Spada, ben si ricorderà di questa capopalestra. Forse una delle migliori capopalestre mai realizzate, sicuramente di Scudo e Spada, ma forse anche proprio del franchise. Passa per Pichedilli, qui troverai l'incantevole palestra di tipo Folletto, gestita da Poppi e il suo affascinante e bellissimo Alcremi, che metteranno a dura prova le tue abilità di allenatore. Impara dalle insidie che si nascondono dietro questa adorabile squadra. Guadagnati la meritata medaglia. Aggiungi Alcremi ai tuoi Pokémon e scopri tutte le sorprese contenute nelle buste di espansione ai futuri campioni. Che poi, tra l'altro, Alcremi è di tipo Folletto e la carta l'hanno fatta di tipo Psico. Però, scelte infelicissime. Iniziamo ad aprire, guardate che apertura perfetta stavolta, senza rompere nulla, senza rompere nulla. Allora, iniziamo subito, facciamo le cose con un po' più di ordine oggi, almeno ci provo. Ecco, una cosa che noto, intanto diamo la medaglietta. Che deve essere questo, il dritto, il dritto deve essere, oddio, deve essere, non ho idea di quale sia la parte dritta. Sembra, sembra tipo il naso di Poppy questo, però vabbè. Comunque, carta codice, che subito per voi, voilà. La carta di Alcremi è un po' piegatina, solo perché le promo magari, vedete, è un po' alzata. E poi la metterò comunque in qualche, nella Perfect, spero che si riappiattisca. Mi era capitato anche con Latias, in parecchi, parecchi video fa. Comunque, questa, tra l'altro, Sun and Sword and Shield, io faccio confusione, Sword and Shield numero 58. Bene, abbiamo due Dreadnought e un Obstagoon. Io direi di aprire intanto un Dreadnought. Iniziamo subito. Allora, spacchettamento. Cominciamo già con uno Swablu. Iniziamo con la carta codice. Eccola qua. Trick A4. Ok. Allora, Energia Metallo. Benissimo. Hop. Beedrill. Smart Rotom. Un altro Swablu. Kakuna. Macho. Macho, che non può mai mancare in nessun video che faccio. Hatini. Cura totale. Cibo in scatola sospetto. E Leica Rock raro. Foil. Va bene. Busta molto, molto tranquilla. Però si sa che questi pinzetti. Insomma, con tre buste. Oddio. Quei pinzetti scorsi ho avuto anche dei bei drop. Non in tutti. Però, insomma, specie nei primi magari. Insomma. Allora. Abbiamo qua l'altro Futuri Campioni. Mettiamo via. Allora, un'altra Energia Metallo. Un Liepard. Un Beat. Un Ginepro. Un Kakuna. Un Nikit. Uno Swablu. Un altro Machop. Vara qua. Zig Zagoon. Arbok. E Mary. Allenatore. Vabbè, dai. Insomma, una rara foil. Tra l'altro, allenatore. Quindi, per carità. Poteva andare meglio. Ma abbiamo l'ultimo pacchetto. L'ultimo pacchetto per sognare. O l'ultimo pacchetto per fare un pin set. Veramente, veramente triste. Questa, dall'altro, l'ho anche aperta molto bene. Carta codice per voi, ragazzi. Eccola qua. E ora facciamo il solito trick a 4. Energia Erba. Hatrim. Un bel Malamar. Reacluta del Team Yel. Giustamente abbiamo Mary e anche Ginepro. Insomma. Kakuna. Pokéball. L'altro, vedete? Tre Machop. Tre buste. L'ho detto. L'avevo detto. Hatini. Quella totale. Un Widdle. Un'altra Mary. Vabbè. Oh. Due allenatori. Foil. E un Lycaroc. E tre Machop. Che vi avevo detto. Tutto nella norma. Benissimo. E veramente un unboxing triste. Quello di oggi. Un pin set che probabilmente poteva restare chiuso. Aveva fatto la sua porca figura anche da chiuso. Che dire, ragazzi. Ultimamente non sto trovando molte robe buone. Ma insomma. Quello è un po' il caso. Che dire, ragazzi. Per oggi era veramente tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale. Commentare il video. Mettere mi piace. Per voi un like non costa nulla. A me aiuta tantissimo. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao. Ciao.